Giornata di eventi e ministri all'Aquila oggi con il Centro Congressi Luigi Zordan come fulcro delle attività sia per l'inaugurazione dell'Anna Accademico dell'Atene Aquilano con il taglio del naso della struttura sia per l'avvio delle attività della SNA, la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione con la presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e Diana Maria Bernini Ministro dell'Università della Ricerca che ha sottolineato come l'Università sia stata decisiva per la ripartenza. L'importanza di questa giornata la conosciamo tutti, il 14esimo anniversario di un evento drammatico che ha cambiato per sempre purtroppo la faccia dell'Aquila e che ha lasciato nell'Italia tutta un ricordo che stiamo emendando con la grande, grandissima forza del lavoro che l'Aquila ha fatto su se stessa e devo dire che l'Università è una rappresentazione di questo lavoro. In città dunque oggi apre ufficialmente i battenti il nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, significativo il giorno ci sarà infatti un focus particolare sulle emergenze. È una giornata che segna un passaggio fondamentale per la nostra pubblica amministrazione intanto oggi dobbiamo ricordare che per l'Aquila, per questo territorio è un giorno di ricordo ma di ricordo proiettato verso il futuro. Per la pubblica amministrazione la giornata di oggi che ha voluto coincidere con questa ricorrenza è una giornata nella quale noi avviamo in maniera concreta una collaborazione con l'Università dell'Aquila e quindi manteniamo l'impegno che avevamo assunto in ottobre firmando un protocollo al Ministero della Pubblica Amministrazione per insediare in questo territorio un polo formativo della nostra Scuola Nazionale di Amministrazione. Al momento noi siamo presso l'Università e ringraziamo l'Università dell'Aquila di averci accolto in maniera così ospitale e immediata. Noi volevamo partire subito e allora quando si vuole partire subito il problema della sede diventa secondaria. L'Aquila ci ha accolto, l'Università dell'Aquila ci ha accolto e io credo che siamo qui per svolgere un compito importante creare un corso sulle emergenze, il primo corso sulle emergenze poi ne faremo anche in altre regioni ma ci è sembrato molto significativo essere qui oggi in prossimità di un anniversario importante del terrenoto per dire che la pubblica amministrazione c'è. L'Aquila è insomma sempre più città della conoscenza un grande laboratorio di competenze e professionalità la scuola sarà un sostegno per tutti gli enti locali.